Come si fa a trasferire un logo vettoriale da un progetto di illustrator a un progetto di photoshop? Vediamo questo documento di illustrator che contiene un logo vettoriale. Il logo ovviamente ha tutti i tracciati convertiti, non contiene testo, non contiene tracce. Nel caso il vostro logo contenga del testo o delle tracce andiamo su oggetto, espandi aspetto e in questo modo abbiamo il logo pronto per essere esportato. A questo punto selezioniamo il logo e lo copiamo semplicemente. Torniamo su photoshop, qui è possibile fare incolla e apparirà questo pannello di opzioni. Noi possiamo importare un logo come oggetto avanzato e questa è l'opzione che consiglierei qualora il logo contenesse delle sfumature o dei gradienti o dei disegni troppo particolari. Nel caso però di un logo piatto come si usa per la maggiore in questi tempi utilizziamo tracciato. Una cosa importante, non dobbiamo avere selezionato nessun livello perché nel momento in cui noi abbiamo selezionato un livello e incolliamo un tracciato, il tracciato viene applicato come maschera vettoriale al livello. Non è quello che vogliamo. Noi non abbiamo nessun livello selezionato e nel momento in cui facciamo incolla tracciato ci incolla semplicemente un tracciato vuoto. A questo punto facciamo un'altra cosa. Copiamo il codice colore da illustrator e avendo selezionato questo tracciato andiamo a selezionare tinta unita e incolliamo il codice colore. In questo modo abbiamo trasferito il nostro logo vettoriale all'interno di Photoshop e questo logo possiamo maltrattarlo quanto vogliamo, ingrandirlo, rimpicciolirlo, cambiargli il colore al volo semplicemente con un click senza caduta qualitativa. Grazie. Grazie.